panorama luco dei marzi questa è via del montanaro scendiamo giù 14 agosto 2023 saranno quasi le 13 la magnifica giornata ecco il montano queste sono le strisce pedonali bello il montanaro invece mi vede il montanaro sì ma con l'autunzista che ci sta a fare là ecco l'altra piazza davanti al comune oggi è la festa dell'unità bello oggi monumento dei caduti praticamente sta quella che è in sotto e non ce l'ho capito è già una passata macchina ecco una cosa eccolo è